Dalle regionali in Sicilia ad oggi, in pochi mesi, è cambiato tutto. Ma cosa è successo? Ma è successo quello che era prevedibile, un disagio sociale, quindi bisogna lavorare, rilanciare subito l'azione del governo, soprattutto regionale, per dare risposte soprattutto alle fasce più deboli. Qualche colpa la stanno dando in questi giorni all'interno proprio del suo partito? A chi guida il partito? Ma a proposito di questo? No, assolutamente. Il dato delle amministrative di Palermo ha segnato a Forza Italia il 14%, il dato del regionale ha segnato a Forza Italia il 16% e ora abbiamo chiuso con un dato al 21%. Non c'entra niente la gestione del partito a livello regionale, anche perché l'attuale coordinatore regionale non è coordinatore della Puglia, della Calabria. Tutto il centro-sud è stato travolto. Perché è stato travolto? Proprio perché nel centro-sud c'è un disagio, c'è un malessere che è sfociato con un voto assolutamente di protesta. Si è parlato anche di candidature scollegate dal territorio. Può sempre capitare una candidatura scollegata dal territorio, quando tu metti un big nazionale, quando certamente forse qualche cosa si poteva impostare diversamente, ma non è questo l'argomento. E soprattutto i cittadini hanno penalizzato chi non lavora nel territorio, semmai. Quindi quali saranno i prossimi passi di Forza Italia per riconquistare consenso? I prossimi passi di Forza Italia è un rilancio e una riorganizzazione, diciamo, in termini di azione amministrativa e di risposte, perché i cittadini aspettano risposte. La Sicilia è da sempre l'isola prediletta dal Presidente Berlusconi. Ma a proposito di questo, Berlusconi cosa ha detto su questo risultato elettorale? Intanto la Sicilia è la regione più azzurra in termini di risultato. Il tema è che anche Berlusconi purtroppo è stato impossibilitato, perché voi sapete non può essere eletto in Parlamento. E questo per noi è stato un handicap, perché se voi pensate che al Senato la nostra coalizione si chiude al 37%, certamente ben oltre i tre punti Berlusconi sarebbe andato se fosse stato candidato direttamente lui a Premier. Voi aprirete una discussione all'interno del partito su questo risultato e potrebbero esserci dei risvolti? Io rifiuto il fatto che quando c'è un fenomeno di questo tipo bisogna cercare per forza un colpevole dentro il partito. Io vorrei ricordare che noi abbiamo chiuso al 23% e gli alleati, oltre alla Lega che è al 6%, una coalizione che si è frantumata. Se pensate al dato di noi con l'Italia e che si attesta al 2,5%, già la risposta ce la siamo data. Domani il Presidente Musumeci ha annunciato una conferenza stampa sull'operato del Governo regionale nei primi 100 giorni. A proposito dei primi 100 giorni, Forza Italia come si è mossa in questo breve periodo? A supporto il Presidente della Regione, è lui il capo del Governo, lui il Presidente del Governo, lui deve dettare l'agenda. Siamo contenti che il Presidente Musumeci farà e svolgerà una conferenza stampa per relazionare ai siciliani i suoi primi 100 giorni. Invece da uomo politico cosa prevede a livello nazionale? Si formerà questo Governo? Ma qua sono, come dire, una grande incognita. Il vero pallino nelle mani non ce l'ha nel Movimento 5 Stelle, nel centro-destra ce l'ha il Partito Democratico. Se vuole svendere la propria identità per qualche cosina o se vuole mantenere l'incarico che gli hanno conferito, che gli ha conferito l'elettorato, cioè assegnandoli all'opposizione. Secondo lei Forza Italia sarebbe disposta a creare un Governo con i 5 Stelle? Forza Italia all'interno del periodo del centro-destra c'è un patto, Berlusconi l'ha ribadito, amen, abbiamo finito. La parola si mantiene.